Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video. Riprendiamo con Call of Duty Mobile. Prima di passare al video di oggi, ragazzi, volevo consigliarvi un film piuttosto cafone, anzi, una serie di film per l'esattezza della trilogia, che è quella di John Wick. Una serie di film iniziata nel lontano ormai 2014. Io personalmente non ho mai apprezzato film action di questo genere, però devo dire che dal punto di vista della regia è fatto piuttosto bene ed è molto utile per caricarsi prima di una sessione di Call of Duty Mobile. Quindi ragazzi, io ve li consiglio assolutamente. Spaccano i culi. Kino Reeves, come sempre, è un figo della madonna. Trovate il secondo capitolo su Netflix. Il primo e il terzo. Onestamente, io non li ho trovati neanche su premi video, se non vado errato. Quindi, senza fare troppi giri di parole, ragazzi, ve lo cercate su altadefinzione.it e buonanotte. Oggi, come avete visto da titolo, partite random con alcuni di voi. Lo so che questo video esce dopo diversi giorni dal precedente, però, come dico sempre, io registro un video se e solo se ho qualcosa da dire o da portarvi. Quindi, io spero che mi possano un po' divertire. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo video. E da Oleg Pasquali io vi mando un nome saluto, un nome abbraccio e noi ci vediamo a un prossimo video. Buona visione. Piattaforma, eh, subito. Lo chiamo i guli. La barona è un asteroide, arriva alla piattaforma. Allora, vi ho lasciato un GKF. Ma non c'è un Artic qua? Guarda, è già tanto che siamo sopravvissuti sulla piattaforma. Andiamo a chiamare. Ehi, 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 ehi. Vai come passeggero. Dai, ti vengo a prendere, Manè. Guarda. Guarda quanto stile. Guarda quanto sa... Era un bot nabbo. E non si ruba, eh? Gradiatore? Non c'è nessuno. Vai, guida, Oleg. Hai già capito. Sì, perché ti piace volare, guidare. Muoviti, c'è la strada. Questo elicottero qua è una roccia. Guarda che ti spara. Vai, da raglia, vedi un salto. Ce n'è uno qua vicino a me. Vengo subito. Trovato. La parella. La sesta, grande. Hai ucciso quello lì. Chia, me lo stai anche chiedendo per davvero. Aspetta che l'avevi lasciato vivere. Oggi non mi sento così magnanimo. Ok. Con la granata, che cane. La sesta. Fermati. Mi sa che il nostro compagno muore. Nona mia. Oleg, qual è il tuo record di kill? Il mio record dovrebbe essere 23. Dovrebbe far da 18, non è male. Eh, non è male affatto. Allora, ok, ho trovato uno. Ultima kill, devo farla io, basta. Vai, vai, vai. Allora, scusa l'altra di ero finire da poi. Dovrei mettere a giochettare prontos? No. Vamonos. Ma state fuori. Ma state fuori. Beh, mi sembra inutile dire che andiamo al modo. Vai. Allora abbiamo... Ma la madonna. Eh, c'è un po' di gente, quindi state a corto. Mi conta gente c'è qui, ma no. Eccolo là. Eh, ma c'è ucciso. Madonna. Che fasi concitate, attenzione. Ma secondo me se ne è data sto qua. Sì, sicuro. Adesso ti reputi ancora un giocatore della domenica, un giocatore professionista. Io mi reputo ancora una sega. Eh, la madonna. Che l'hai vincito in più di te. Bella battuta. Mo' mi incula questa roba. Adesso ti erano. Mo' me faccio il giro. Questo non se ne accorge. Penso che me ne sia andato. E tacche. Tu scendi. Al poligono di tiro. Al poligono! Sei un cretino! Dove cazzo sei sceso? Ma stai... Ah, no, no, no. No, ma sei proprio un rimbambito, eh. Beh, che cazzo sto figlio di troia. Guarda, dove hai toccato? Ma adesso arrivi anche tu al poligono. Eh. Morto c'è arrivo. Nooo, le nido, non ci sono solo giù di vita. Madonna. Non sei di vita. Ma state fuori, davvero. Guarda, mi ricotta. Là, con quattro giro. Va che c***o. Va che c***o. Qua. Ho proprio un attimo, stavo. Aspetta che mi suicido. Dai, addio Andrea. Ah, no, no, damo se. Mi va. Là. Sì, sì, è sparata, è sparata, è biondi. Vai, c***a. Andre, ho miscioperto. Olè, guarda come li abbiamo ammazzati, sti barboni. Aspetta che c'è un salame qua sopra. Dov'ai, biondo? Potenzia ti, Andre. Sì. Vai, tutto tuo. Gravissimo. Vedete che mi sto accendendo l'adrenalina io. Bravo, bravo, drogati. Drogati che sei giovane. Che c***o di un porco giuda. Vai, vai, corri. Damo se, damo se, damo se, damo se. Magari usa ogni tanto l'abilità, che dici? Ah, 111. Ce ne sono due. Orca, c'è uno col cecco. La, non è vero. Ma ucciso. Eh, non ce l'ho detto. Aspetta che gli rompo il c***o con il clown. Dai, scendi. Di tanto devi scendere. La. Che c***o. Ah, ma l'ho ucciso. Eh, Gianni. Vabbè, comunque bella. Covid-20, gratissimo. Eh, ci sono già 3 squadri. Ce le mangiamo colazione 3 squadri. Aspetta, scendi qua. Oh, c***o. Chi è che mi spara? Sto col pompo. Eh, come hanno inculato col pompo. Oh, che muoio. Aspetta. Ok, che devi piantare. Ok, dietro, dietro di te. Cos'è un c***o. Ok, là ce n'è un altro. Ok, uno è morto. Ah, forse ho capito. Eccolo. Ok, è morto. Tutti da solo le porte. In pratica. Se ti dico quanti ne ho fatti ti spaventi. Quanti? Cinque. Porca miseria. Oggi è solo abbastanza in forma, eh. Corri perché magari... Cioè, cerchiamo di muoverci che magari io... Eccolo qua, infatti, lo stronzo. Olè! E... Eccolo qua dove... Eccolo qua dove... Dove era finito quello colpiti di... Guarda la sinistra del... Del cosa. Sinistra, sinistra. Bot. Si lo so. Comunque ho visto... Molti video riguardo all'ospedale. Ci sono degli orsetti... Cioè, devi distruggere... Però non ho capito cosa facciano. No, è sicuramente sereno come le brutti. No, no, no. Sono solo dentro l'ospedale. Apparentemente non rilasciano niente. Ops. Bello. Ah, ma io non ho il... Calcio. Ma state fuori. La. No, che cazzo fai? Io no. Ce ne sono due. Ciao, vale. Quanto tempo. Va, raga. Ovvio. Quando ci ha piattato a maure... Attenzione i druidi, eh. Ciao, joystick. Oggi spalca che lo vuole. No, no. No, le tasse mediche. Oh, gente che scappa. Vi voglio bene. Oh, leg, mi sei mancato, sai? Eh, anche tu. C'è un nemico. Vai, marone. Madonna, c'è anche una squadra, ragazzi. Vai, mia. Ma che cazzo me ne fotte. Basta che prenda il drop. Bello. Questo è morto? Lo vedo. Ah, sì, sì, lo vedo. Ce n'è anche uno da te, oleg. Vabbè, questo era un morto. C'è anche. No, questa è un'altra squadra. Ok, qui, qui. No, no, porco, Giulio. Mamma mia. Calm down, raga, vai, vai. Io ne ho visto uno, poi non so se c'è una squadra o cosa. No. Che figlio della merda. Un nomad. Dai, oh. E tua madre. Ah, Valeria. Sei una bestia. Ma fra mi, mi aveva lanciato tutto il dente. Curati, oleg. Andrò a chi lavo. Oleg, munizioni verdi. C'è le off. Occhio lì, oleg. Non è un morto. C'è gente, raga. Saluta, Valeria. Valeria, per che sei sceso? Mi sono cagato addosso. Vela, madonna. Ma stai, ve lo vuoi. Olè. Ma state fuori. Madonna. Ci sono due camperoni su A, ragazzi. Ragazzi, uno con me su A. Sì, stanno tutti subì, raga. Non è vero. Olè. Tutti su C, raga. Mamma mia. C'è un cecchino sopra. Sì, sì, sì. Oddio. Cioè, stupato ha passato dietro e non ce ne manca il coso. Con quanta poesia. Olè. Daglio. Olè. Come un altro? No. Questo mi ha aspettato nell'angolino. Sto subì. No, dall'altro a qua. Olè. Bella kill questa, bravo. Lo so, lo so. Figlio di sua madre. Oh, ma che palle. È sempre questo? Forte questo qua. È sempre piazzato nella stessa casa. Occhio ed il resto. Subito. È la bollina. Troia di una vacca, Eva. Che ha fatto il cuore? Troppo forte. È sempre lui. Cazzo. Sto camperun de merda. Questo è peggio, diritto. Adesso gli preparo una bella sorpresina. Questo push. Wow. Non è vero? Non so, non è vero. Lì? Olè. Sì, vabbè, lì, dai. Non ti lamentai. Olè. Non ti vuol dire che sono scassi, gatti. Ma non ho fatto manco la kill. Ah, biondo. Ecco giù. Quanto stile? Quanto stile? IM. Ma state fuori. Tutti quei cecchini, raga. Mi prendeva la mappa. A Newtown dove vai? Quei cecchini ti ammazzano. Eh, io in quel partito manco ci sono arrivati. Mamma mia, due cecchini. No, non ho mancatato qua. Andami se... Dai, che stima... Con l'LK24. Aspetta, venite qua. Sono arrivato ultimo. Che schifo. Ti lancio 12. Non prendiamo B. Paolo, è molto probabile che moriremo come stronzi qua. Perché è una mappa dannata. B, apostrofo, annata. No, no, no. Non dovete prendere. No, 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 bastardo. Non c'è un po' di merda che ci vuole... Ehi! Dai, non muove, perché c'è la troia. Ah, bello, volete i camperati. Guarda le cucino. Ragai, granata gratis subito. Guarda. Ah, conzzo. Andate a scambere i VTOL. Dai, sto volendo. Finisce a 100. Abbiamo perso. Ah, abbiamo perso. Toll. E questo è quanto. VITOL. Abbiamo perso. Finisce a 100. Te volendo.